Ieri sera 28 giugno si è svolta la manifestazione dedicata alla piazzetta adiacente, l'ingresso del borgo antico di Agropoli, per sottolineare ancora una volta la legittima valorizzazione dei luoghi pubblici. La piazzetta era stata attenzionata dalla famiglia Lista Pepe circa un mese fa che ne chiedeva l'usucapione al comune, essendo la loro abitazione ricadente sulla stessa. A detta dell'avvocato Luigi Acerbo, che ha difeso gratuitamente l'ente comunale, i Pepe hanno rinunciato agli atti e all'azione della causa pendente innanzi il Tribunale di Vallo della Lucania e hanno riconosciuto la natura demaniale e pubblica della piazzetta e che dovrebbero firmare la transazione l'1 o il 2 luglio prossimo. Ieri sera i manifestanti hanno liberato l'ingresso della piazzetta a Belvedere che con due vasi ingombranti non lasciava intendere libertà d'ingresso pubblico e hanno manifestato in modo ordinato discutendo sul bene comune e leggendo poesie. Tutto si è svolto normalmente, se non fosse stato, per una telecamera di videosorveglianza installata sulla parete di un'abitazione ricadente sulla piazzetta che, comandata a distanza, inquadrava il luogo e il passaggio della gente sugli scaloni in entrata e in uscita dal centro storico. L'accaduto ha urtato non poco i cittadini intervenuti. Tutto questo è avvenuto in regime di violazione di legge, scrive Eliseo degli Paoli. Stiamo valutando un percorso per attivare un procedimento a tutela. Abbiamo subito la violazione della privacy. Le riprese sulle nostre persone sono state effettuate mentre eravamo su suolo pubblico senza il nostro consenso. Inoltre, questa mattina ancora una volta abbiamo trovato i vasi riposizionati all'ingresso della piazzetta, rendendo dubbi alla natura pubblica di quello spazio. Ancora non è chiaro perché il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, continua dell'Ipaoli, ritarda l'esecuzione di un progetto di valorizzazione della piazzetta. In quel luogo è stata annunciata già da tempo l'affissione di una targa con l'installazione di una panchina di grandi dimensioni e arredi floreali dedicati agli innamorati.